La politica non può e non deve assistere, deve agire e far sentire la propria voce. L'avvertenza Enige la fa registrare la netta presa di posizione da parte del Consiglio Comunale. I consiglieri infatti hanno deciso di stare accanto agli operai dell'indotto dello stabilimento che da tre giorni e due notti si trovano sulle strade di accesso alla città, direzione Catania e Licata, con una settina di protesta al fine di rivendicare il loro diritto al lavoro dopo la chiusura della raffineria e la sua mancata riconversione in Green Refinery, così come stabilito dall'accordo siglato a Roma il 6 novembre del 2014. Si chiedono dunque interventi immediati. La polveriera indotta è pronta ad esplodere da un momento all'altro. Lo avevamo già detto e scritto mesi addietro. Oggi è arrivato il momento veramente di scendere in campo perché non possiamo perdere l'ultimo treno che sta passando. Il Consiglio Comunale in autofinanziamento, cioè vuol dire con i soldi nostri, stiamo portando presso la zona antistante Enimed dei Gazebo per far sì che rimaniamo lì convocati in Consiglio Comunale straordinario, urgente e permanente. Rimarremo lì sino a quando non verranno rimossi i blocchi. La vertenza Gela oggi non si può abbandonare per nulla. Noi dobbiamo essere i promotori di quello che è il futuro della nostra città. Tutte le evoluzioni positive che dovevano esserci col protocollo indese non ci sono state. Quindi oggi riteniamo che ci sia una città che rischia, che rischia parecchio e che rischia il suo futuro. Dal Governo nazionale non è arrivato nulla. Tutte le cose che dovevano arrivare sono rimaste solamente sulla carta, non è arrivato assolutamente nulla. Noi ci vogliamo assumere la responsabilità oggi di guidare la città in questa dura, durissima vertenza. Vogliamo essere da collande tra tutte le categorie e questo non può farlo che il Consiglio Comunale che rappresenta lo Stato, rappresenta i cittadini. Quindi da oggi inizia un'altra storia nei rapporti che c'è con l'Eni, nei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto nei rapporti con il Governo nazionale. Troppe promesse, pochi fatti. Si chiama vertenza Gela, in realtà io la chiamerei vertenza di un comprensorio che fa riferimento a Gela e quindi è chiaro che tutte le parti devono essere invitate. Come Consiglio Comunale abbiamo pensato di poter coinvolgere intanto tutte le categorie della città, gli ordini professionali e le scuole, ma anche tutto il comprensorio, perché è giusto che il comprensorio possa essere presente. Devo dire che sono stati i primi loro a chiedere di essere la disponibilità appunto di intervenire, interverranno venerdì mattina. È una vertenza che non può esaurirsi in questi giorni, è una vertenza che durerà nel tempo e che deve durare fino a quando si risolva.